La previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Partecipare all'allegria generale uscite dal gush dove Saturno Dominatore cerca inutilmente di rinchiudervi. In molti casi la compagnia sopperisce la coppia, se un partner ancora non c'è cercate evasione in questo clima goliardico, che incoraggia a lanciarvi e ad ammettere che un certo interesse per qualcuno c'è e probabilmente anche ricambiato. Progetti incerti in attesa del lancio, finché tutto non è pronto appuntino le cose restano in attesa, ma non è il caso di farsi prendere dall'ansia, prima o poi tutto si aggiusta. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. I partner si disilludono E aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. Troppe ore al computer vi rendono nervosi e distratti, ricordatevi di distogliere lo sguardo e rilassarvi per qualche minuto, senza perdere il filo della concentrazione. Cercate la tranquillità assoluta, solo con quella potrete risolvere problemi che al momento vi appaiono insormontabili e senza soluzione. In amore la situazione potrebbe complicarsi a causa della vostra gelosia e del vostro maldestro uso della parola. E l'alba dell'amore, meriti tenerezza e coccole e le avrai. Porta solo pazienza e stai attenta a una nuova conoscenza. Potrebbe essere quella giusta. Esplorate il vostro cuore e vedete se per caso non vi sia qualche piccola macchia che possa oscurare un incontro importante che potreste fare e che merita tutta la vostra attenzione. Non esponetevi a rischi eccessivi rischiedendo finanziamenti, prestichi o mutui che vanno ben oltre le vostre possibilità e capacità di restituzione. Soprattutto se il denaro vi serve per avviare un progetto che vi sta a cuore. Chi ha tempo non aspetti tempo, che aspettate dunque a lavorare su voi stessi per rendervi interessanti agli occhi della persona che vi interessa. Abbiate più cura di voi e sappiate essere espansive al punto giusto. Questo giorno non passerà senza noia ma anche con qualche fruttuosa novità, soprattutto sul lavoro. Curate però di più la salute. Il lato positivo di alcuni chiarimenti che potrebbero esserci è quello che non ci saranno scontri ma vere e propri confronti. Questo sia che ci saranno in amore sia che ci saranno sul lavoro o in ambiente domestico. Parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. Si profilano belle novità nel settore professionale. Coloro che vi amano vogliono che siate felici anche voi. I vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne, nemmeno alla persona in questione. Il sole, ancora per un paio di giornate in congiunzione nel vostro segno, settore della mondanità, i gemelli, vi aiuta a gestire i rapporti sociali con disinvoltura e sa voi e faire. Mercurio, pure è nel vostro segno, il vostro cuore si fa più leggero e l'ambiente attorno a seconda il vostro stato d'animo. Giornata dura, doppiamente da quando Saturno, l'impietoso guastafeste, transita allo zenit in quadratura al vostro segno. Per fortuna coprirvi le spalle provvedono Giove eco e generoso e la luna miciona e goduriosa in seconda casa, vero, spenderete un po' più del previsto, privilegiando l'avere rispetto all'essere, ma l'essenziale è essere in equilibrio e affrontare in modo giusto, senza patemi tutte le piccole, grandi contrarietà della giornata. Amore ed eros. Inutile tenere il broncio al partner solo perché stasera non vi coccola come avete visto fare al vostro attore preferito. Lamentarvi non è la soluzione, finireste per indispettirlo rovinandovi una serata comunque promettente. Qualche volta il silenzio è d'oro. Siete in cerca dell'anima gemella? È possibile un incontro, se siete single, che si rivelerà essenziale per il vostro futuro sentimentale. Non disdegnate di cercarla anche nel nuovo mondo dei social media dove potreste di sicuro e in aggiunta rischiare di divertirvi oggi un mondo. Questa ipotesi si renderà più probabile se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di maggio al 7 di giugno. Se invece un amore lo avete già, la luna positiva oggi fa sì che tra di voi si realizzi una magica intesa dei sensi. Lavoro e denaro. Premio di consolazione per un momento di insoddisfazione affettiva Nella vostra attività pratica il settore delle relazioni umane riveste importanza fondamentale, allo scopo spesso di conciliare tendenze contrapposte. L'arte della diplomazia, in cui sapete essere fini maestri, vi faciliterà l'operazione e vi guadagnerà la stima dei capi e dei colleghi. In special modo se fate un lavoro a contatto col pubblico o, come spesso avviene per voi, legato alla comunicazione e alla tutela delle istituzioni. Benessere. Un filo di attenzione in più al look non vi farebbe male, ma se oggi non siete in vena pazienza, intanto vi comprate qualcosa di sfizioso o vi concedete un dolce senza contare le calorie, una volta ripristinato l'umore si torna alle regole. Sottile mal di ginocchia o di spalle che vi prende dopo un weekend sportivo, appagante sì, ma se non siete più ragazzini gli sforzi fisici e senza allenamento hanno il loro prezzo. Per lei, al look tenete moltissimo ma vi coccolate solo con cosmetici a base di ingredienti naturali, producendo magari i vostri cosmetici direttamente a casa, sapori di frutta, yogurt, miele, che piacciono tanto anche al vostro lui. Per lui, dal capo vi aspettate un chiarimento oppure un rimprovero, invece nulla, tutto passa sotto silenzio. Ma ancora non sapete se respirare di sollievo o preoccupar bene. Colore delle emozioni, ottanio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.